Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento una splendida ed introvabile Mercedes-Benz 160 CDI dell'anno 2018 guidabile per neopatentati. Vettura con cambio automatico, alimentazione a gasolio, tecnologia motore Euro 6B. Solamente 39.000 km percorsi, naturalmente originali, completamente tagliandati. Si presenta in un bellissimo nero metallizzato con cornici vetro cromate, ruota in lega, specchi abattibili elettricamente, sedili sportivi in pelle e tessuto, volante sportivo tre razze multifunzione, dotato anche di cruise control e pedal per il cambio al volante. Ecco il cruise, ecco 39.800 km percorsi, abbiamo sistema di navigazione satellitare cartografico, telecamera per retromarcia, interfaccia bluetooth, climatizzatore, sistema di start and stop e dynamic select. Quattro sono gli alzacristalli elettrici, vi mostro il sedile posteriore, vettura veramente in perfetto stato, ricordo idonea a neopatentati, naturalmente è un surplus in quanto può guidarla chiunque. vi aspetto Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vedere, provare ed eventualmente acquistare questa splendida classe A. grazie